Quando irruppe la polizia, suonavo al piano bar dell'Elefante Bianco, un locale chic di Via Veneto, quando irruppe la polizia e chiese i documenti a tutti. Un agente mi si avvicinò e disse, tu quanti anni hai? Diciassette risposi, sei un minorenne, che stai a fare qui? Sì, sconto la vita, che mi ha già dato baci e manrovesci, risposi. La gente allora mi guardò e disse, scappa, va via, io non ti ho visto. Commento. Qualsiasi vocazione, quando è potente, inizia a soffiare nell'animo molto presto, perché arriva da prima di quella vita. Grazie. Grazie. Grazie a tutti